Ciao! Oggi prepariamo insieme la crema al burro, ideale per farcire dolci e torte, per rivestire torte e creare semplici decorazioni. Ora iscriviti al nostro canale YouTube e partiamo subito con la ricetta. Iniziamo preparando del latte condensato, versando in un pentolino 250 ml di latte fresco e 300 g di zucchero semolato. Scaldiamo a fuoco medio, poi aggiungiamo 40 g di burro e un cucchiaio di amido di mais. Mescoliamo bene, portiamo a ebollizione e poi abbassiamo la fiamma, lasciando cuocere per 20 minuti, seguendo la cottura e mescolando. Al termine dei 20 minuti portiamo il composto in un contenitore e lasciamo raffreddare, coprendo con pellicola trasparente. Quando il latte condensato si è raffreddato, frulliamo 500 g di burro ammorbidito a temperatura ambiente. Frulliamo per qualche minuto a medio-alta velocità per ottenere una crema omogenea. Quindi versiamo a filo 400 g di latte condensato. Possiamo usare quello fatto in casa o quello confezionato. frulliamo per 2-3 minuti e la crema è già pronta. Frulliamo per 2-3 minuti e la crema è già pronta. Frulliamo per 3-4 minuti e la crema è già pronta. Frulliamo per 2-3 minuti e la crema è già pronta. Primue per 3 minuti. Cos'è bisogna far fare 2 minuti e la crema è più pronta. Poderiamo per farcire e decorare torte, possiamo usarla per farcire e decorare torte, così com'è o aromatizzandola a piacere. Ad esempio, se vogliamo preparare una crema al caffè, prepariamo un espresso ristretto, aggiungiamo due cucchiaini di caffè solubile e mischiamo bene. Quindi prepariamo la crema così come visto in precedenza e aggiungiamo il caffè poco alla volta alla fine della preparazione. Prova questa ricetta e facci sapere nei commenti cosa ne pensi. Se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale, clicca sulla campanella, clicca mi piace e condividi il video con gli amici. Grazie e ci vediamo al prossimo video! Grazie a tutti i nostri spettatori e a tutti i nostri spettatori e a tutti i nostri spettatori